ultimo in azzurro, in carta da zucchero, quindi siete bravissime perché non perdete queste meravigliose occasioni Fausta da Piacenza, un super bacione meraviglioso già non mi fa morire, mi mancava visto che mi mancava Guardi che ho tutta oggi che mi abbino e non solo perché ho anche le unghie in verde quindi